Con C2 Cattolica Community è possibile accumulare del credito cashback da riutilizzare in piena libertà, stipulare nuove polizze o pagare rinnovi per effettuare donazioni ad enti benefici o semplicemente per ricaricare il proprio conto corrente. Per scoprire a quanto ammonta il tuo cashback, è sufficiente cliccare su C2 Cashback dal menu in Homepage ed entrare così nella sezione dedicata. Qui potrai visualizzare l'importo disponibile sempre aggiornato e scegliere come utilizzarlo. Per rinnovare o acquistare una nuova polizza è necessario cliccare su In Agenzia Cattolica. A questo punto decidi la somma che intendi prelevare e confermi l'operazione. Il saldo cashback viene aggiornato automaticamente e dentro le 48 ore successive riceverai il tuo voucher polizze per email. Cliccando invece su Per contribuire ad una buona causa, puoi decidere di sostenere con il tuo cashback progetti benefici. Per procedere dovrai indicare l'importo da donare, selezionare l'ente benefico e approvare l'operazione. Il saldo verrà aggiornato in tempo reale e un'email di ringraziamento ti confermerà la donazione. Infine, se il cashback accumulato raggiunge l'importo minimo di 50 euro, potrai chiedere un riaccredito della somma direttamente sul tuo conto corrente. Si seleziona l'importo da ricaricare, si inserisce il codice IBAN e si conferma l'operazione. Il sistema aggiornerà in automatico il saldo del cashback e ti invierà un'email di conferma. Grazie. 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 Grazie.